Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023 stasera asfalta in diretta Massimiliano Varrese, per via di alcune sue esternazioni riguardanti Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. L'attore, nei giorni scorsi, si è detto convinto che le due sue colleghe siano frustrate perché non avrebbero avuto la carriera che sognavano. Eppure Signorini fa notare che lo stesso Massimiliano non è di certo uno degli attori più noti. Il conduttore riceve stasera un grande applauso da parte del pubblico. Ecco le sue parole quando inizia la puntata. Massimiliano dice che non c'è limite alla cattiveria e poi però ti lasci andare a cattiverie mostruose. Quando dici che non hanno avuto la carriera che volevano non è che sei Marcello Mastroianni. Ci si può incavolare, ma con sti non finisce qui, perché Signorini si altera nuovamente con Varrese, il quale si dice certo del fatto che ci fosse passione con Heidi Baci. Il conduttore non ci sta, in quanto fa notare che la passione dovrebbe esserci da entrambe le parti, non solo da una, senza che nessuno subisca. Alfonso ribadisce di aver avuto l'impressione che lei non gradisse affatto questo corteggiamento. Inizia una discussione nella casa, in quanto Grecia continua a dichiarare di aver visto una scena, una notte, in cui Heidi si lamentava del fatto che Varrese si sarebbe buttato su di lei, mentre stava dormendo, nel letto. Così, Alfonso decide di chiarire la situazione mandando in onda le clip che ritraggono questo momento e le ore successive, durante le quali Heidi ha svelato a Fiordaliso di aver trovato eccessivo il comportamento di Varrese nella notte. Ma ecco che Grecia dichiara che non è quello il momento a cui si riferisce. Il conduttore, però, rivela di aver visionato tutte le clip e che quella è l'unica scena che si avvicina di più al suo racconto.